Allora, eccoci di nuovo in studio. Professore, abbiamo detto all'inizio, noi parliamo di keratocono. Vogliamo prima spiegare di che cosa si tratta? Keratocono è una malattia che colpisce la cornea. La cornea è la lente più importante del nostro occhio, quella dotata di maggiore potere e che dà un contributo essenziale alla nostra visione. Keratocono produce per una serie di ragioni una deformazione di questa lente e di conseguenza una perdita di quella che è la nostra capacità visiva, di definizione. Ecco, ma le cause quali sono? C'è una predisposizione genetica? Bisogna stare attenti a una familiarità? Come funziona? Sì, abbiamo isolato diversi geni che sono responsabili di questa patologia. Dopodiché questa predisposizione non è detto che debba per forza manifestarsi, ma risulta evidente quando si fanno gli dovuti esami strumentali e quindi questi esami sono essenziali per poter diagnosticare precocemente la malattia e poter di conseguenza avere un atteggiamento molto attento sulla possibile evoluzione di questa. Ecco, quindi sostanzialmente chi ha una familiarità, ovvero qualche parente stretto con questa patologia, è bene che si controlli regolarmente. Senza. E senta, quali sono i sintomi che può dare il keratocono? Allora, il keratocono, come abbiamo detto, colpisce la principale lente del nostro occhio, quindi i primi segni che noi avremo, saranno per forza di cose una diminuzione della nostra vista. Certo. E agli inizi, dato che la patologia si può manifestare subito dopo la pubertà, spesso si può dare la causa, la colpa di questa diminuzione di vista all'insorgere di un banale difetto visivo come potrebbe essere una miopia. In realtà, questo è vero soprattutto nelle fasi iniziali del problema, ma andando avanti noi ci accorgiamo che anche adottando la migliore correzione possibile non raggiungiamo più i famosi e fatidici dieci decimi e quello è il primo grosso camparello d'allarme. Senta, perché lei ha parlato prima di una diagnosi precoce? È particolarmente importante in tutte le patologie, però particolarmente importante in questa. Perché? Perché la nostra cornea è una lente, abbiamo detto molto forte, ma anche estremamente sottile. Considerate che mediamente lo spessore della nostra cornea al centro è di poco superiore al mezzo millimetro. Di conseguenza, se noi abbiamo una deformazione, quindi un incurvamento di questa lente, si andrà incontro per forza di cose ad un assottigliamento della cornea che essendo già di per sé sottile, rischiamo divenga troppo sottile e di conseguenza poi obbligarci ad interventi molto più importanti. Ecco, parliamo degli interventi. Si parla soltanto di intervento di tipo chirurgico o ci sono degli interventi di tipo farmacologico? Allora, noi possiamo dire che in tutto il mondo il gold standard, quindi il trattamento d'elezione di questa patologia, è il cross-linking. Il quale è un trattamento chirurgico, non un intervento chirurgico in senso stretto. È possibile, ovviamente, soprattutto quando la patologia è all'inizio. Come funziona? Che cos'è questo cross-linking? Allora, il cross-linking è una metodica molto semplice apparentemente, come tutte le scoperte quando si conoscono, dove si utilizza un collirio che contiene la riboflavina, la vitamina B2 in buona sintesi, che viene messo sull'occhio ripetutamente ripetutamente fino a quando la cornea sarà impregnata di questo collirio. A quel punto si espone la cornea a una dose ben precisa di radiazione ultravioletta di tipo A che produce una fotopolimerizzazione della cornea stessa. Che significa? Quindi si irrobustisce la cornea e di conseguenza si blocca quella che è una evoluzione della malattia. Ecco, ma quindi è un intervento poco invasivo in realtà. Assolutamente. Fa un po' impressione, diciamo, però comunque è poco invasivo. Ma non si fanno trapianti di cornea in questi casi? Allora, da quando esiste il crosslinking, i trapianti di cornea sono andati diminuendo ogni singolo anno per cause dovute al keratocono, ovviamente, il che dimostra una volta di più che questa malattia può essere bloccata nelle sue complicanze gravi. Senta, dopo quanto tempo si può vedere bene di nuovo? Noi abbiamo, con il precedente trattamento di crosslinking, un recupero più lento. Con le modalità più recenti, che è il crosslinking personalizzato, abbiamo un recupero molto più rapido. Diciamo che nel giro di due o tre giorni recuperiamo proprio il discomfort dovuto al trattamento e nel giro di una settimana recuperiamo quanto avevamo in precedenza, salvo poi andare a migliorare nel corso degli ulteriori 4-5 mesi. Ma può tornare normale la vista dopo questo un po' quello che si domanda a tutti i pazienti? Sicuramente. Se siamo intervenuti molto precocemente e abbiamo perso poco... E qui la diagnosi precoce. E qui la diagnosi precoce. Sicuramente torniamo ad avere una vista pressoché perfetta. Quindi prima è meglio, senza ombra di dubbio. Senta, ultima domanda. Rapidamente, possono esserci delle recidive? Il trattamento, se eseguito correttamente, ha una percentuale di riuscita del 97%, quindi vorrei averla in qualunque situazione di vita. Ma nel caso la sfortuna volesse che invece si fa parte di quel 3%, che cosa succede? Si può reintervenire? Sì, è possibile reintervenire con un secondo trattamento, il quale andrà ad agire su una cornea che già è stata rinforzata e quindi le percentuali di riuscita sono ulteriormente salite. Quindi anche in caso di sfortuna, diciamo, la cosa dovrebbe andare bene. Quindi questo è un trattamento che risolve, diciamo, per il keratoconio. Sì, assolutamente sì. Grazie, grazie professore. Grazie a voi. Con questo io vi saluto e come sempre vi do appuntamento con Medicina 33. Arrivederci.